Siamo fuori per motivi meteorologici, calcistici, forse. Innanzitutto ringraziamo il professor Torrini che è venuto apposta da Firenze, ci ha affrontato un viaggio per noi, quindi anche il fatto che siamo in pochi mi dispiace tanto. Il professor Torrini ha insegnato per molti anni all'Università di Napoli e si è interessato proprio di Galilei, ha scritto proprio un volume dopo Galilei, gli sviluppi dopo Galilei della scienza. Ma poi si è interessato anche di lavorare su Galilei a Napoli ma poi si è interessato soprattutto di della Porto, di quattro di queste stavamo parlando, e fa parte del Comitato Nazionale dell'Operi della Porta e poi si è interessato soprattutto anche di storia della scienza del Settecento. quindi siamo veramente in ambito proprio nostro. Quello che appunto vorrei introdurre, introdurcendo questo, volevo dire anche che tornando al film di ieri, propongo di fare un'introduzione a lui, poi gli facciamo delle domande e vediamo appunto di proseguire il nostro discorso in maniera così familiare e non troppo accademico, insomma. Voi avete visto il film, io l'ho rivisto anch'io per l'occasione perché non l'avrei ricordato così bene come necessita. Il film è un film, non è un documentario, è un film in cui l'autore, in questo caso la Diana Cavani, dà una sua interpretazione, è un racconto, diciamo così, di quello che lei pensa, che vada messo in evidenza nel caso Gaeleo. Il film, non so se ieri è stato fatto un'introduzione, è del 68, no? Il film prodotto dalla Rai televisione, però non è mai proiettato e fu vietato a meno di 18 anni. Questo per capire il clima in cui il 68 non è neanche... Sì, certo, è stato diverso tempo, ma insomma, comunque, siamo in età contemporanea, eh? Vietato a meno di 18 anni? Boh, perché? Perché perché ci fu una grossa polemica, per questo la previsione poi che pure l'ha prodotto, non la proiettò, non è mai stata proiettata la previsione, perché c'è questo atteggiamento, diciamo, secondo i censori di polemica contro la Chiesa, e quindi questo spiega sia la non messa in onda e sia il proibito a 18 anni, perché vedeva a quei tempi, nel 68, film proibiti a 18 anni, erano rari, insomma, un genere su questioni sessuali, non certo su questioni di carattere di questo genere. Ricordo solo, forse, il film di Oton Lara, Io non ucciderò, ecco, che era sull'obiezione di coscienza, eccetera, che ebbe la stessa sorte. Quindi è un'opera, diciamo sì, piaccia o non piaccia, è un'opera d'arte, non vuol documentare d'arte. E l'interpretazione che dà la Cavani, se avete visto, vi ricordate che una parte cospicua del film è dedicata alla figura di Giordano Bruno. Se uno invece deve scrivere uno saggio o una biografia scientifica di Gaileo, certo Bruno c'è, ci sarebbe stato anche lì, ma non nella misura così preponderante che c'è nel film della Cavani. Cioè la Cavani gioca tutto su questa sorta di, come si può dire, di nota di contrapposizione tra l'affermazione della libertà della scienza, ma anche la libertà della filosofia, la libertà della ragione, nei confronti invece di chi, in questo caso la Chiesa Cattolica ritiene di avere in mano la verità e anche di dover esercitare un controllo su quello che si dice. Ecco, quindi è letta in questa chiave. Ora non c'è dubbio, per esempio, il fatto, non c'è dubbio che si siano incontrati Bruno e Gaileo, questo non lo sappiamo, cioè non abbiamo i documenti, si può ipotizzare dato che per un certo periodo si sono trovati entrambi a Venezia e a Padova, tanto più che Bruno aspirava a tenere un insegnamento all'Università di Padova e quindi può essere che si sia incontrato. abbiano discusso come racconta la Cavani, Bruno avrebbe rimproverato Gaileo di insegnare secondo il metodo tradizionale, di non esercitare, diciamo, la sua libertà di insegnamento, eccetera. Questo ovviamente fa parte del gioco film, deve mettere in qualche modo in scena questi due personaggi, lì c'è un Bruno che appare più, come si può dire, più pugnace, più deciso nella lotta per l'affermazione della libertà del sapere in generale, mentre a Parire e a Bunga è invece più prudente, meno schierato, diciamo così, più politico, diciamo, che invece aspettiamo, eccetera. Naturalmente sono delle cose che ovviamente per motivi di carattere scenico, filmico, uno è portato a esagerare o a insistere o a semplificare al limite che nella realtà poi storica non sono, per esempio, il fatto che c'è a un certo punto Gaileo esclama guardando quel canocchiale nella notte, la volta celeste, dice, ah, se Bruno, se avessi fatto prima avrei... Bruno non fu in realtà condannato, sì, tra le tante accuse li furono fatte, che mi sono riguardato anche il processo questi giorni, giusto per ritirarmelo a mente, tra le tante accuse, per esempio, che sono 14 o 15, capi di amputazione, c'è anche quello di aver creduto che la terra non fosse ancora il centro diverso e girasse, cioè l'opinione di Copernia. Ma questa, diciamo, rispetto a tutte le altre è un peccato meniale, insomma, anche perché fino al 1616, cioè fino a quando, come si vede nel film, Bellarmino rimprovera Gaileo e c'è la condanna della parte copernicana, cioè la condanna del libro di Copernico laddove il libro di Copernico sostiene la teoria che il sole giri, che la terra giri intorno al sole, e solo per questa parte, la chiesa non aveva mai, non si era mai occupata di questo argomento né aveva ufficialmente mai presso posizione rispetto al libro di Copernico. Quindi, Bruno, abbiamo, ha scritto, ha scritto dei dialoghi su questo, è copernicano, ma rispetto alle accuse molto più gravi, sia di carattere teologico, sia di carattere di comportamento, diciamo, di vita, eccetera, che loro per condannarlo ne avevano, perché effettivamente lui sosteneva delle tesi dal punto di vista teologico, ma non soltanto teologico, completamente fuori da metropsychosi, per il fatto che le animi si rincarnassero, che sono oggettivamente contrarie all'insegnamento della chiesa cristiana, prima che cattolica, eccetera. Quindi, questo è il fatto che Galileo avrebbe, dice, a un certo punto dice nel film Galileo, no? Dice, ah, se avessi trovato prima il canocchiale avrei potuto, Bruno si sarebbe potuto salvare. E questo non è così, cioè, a parte il fatto che poi lì c'è una forzatura, perché il canocchiale, e quindi si fa riferimento al testo che poi pubblicò Galileo nel 1610, contenente le osservazioni che aveva fatto, con il canocchiale, cioè dire, Siderius Nuncius, non c'è la prova che la terra gira intorno al sole. Ci sono, è un libro importantissimo, sarà uno dei testi più importanti del seicento, diciamo dell'intera storia del pensiero scientifico, è un libro, diciamo, che segna un momento, ma che però prova che Tolomeo ha torto, ecco, prova che non può essere vera la teoria aristotelico-toremaica, ma non prova, non può provarlo, che sia vera l'altra. Quindi è un libro che serve molto, e come a caso il copernicanesimo viene pubblicato sei anni dopo l'uscita del sinero snuccio. Mentre fino a quel momento, cioè dire, per 70 anni la Chiesa ignora, no, ignora il problema, sì, ci sono prese di posizione, come no, però sostanzialmente la Chiesa non si occupa di questo problema, perché sì, perché il problema non è così evidente, ma perché si tratta, ed ecco perché lì, Bruno poteva dire certe cose, perché si tratta di opinioni, in fondo, a essere, diciamo così, in quel momento, cioè prima del 1610, copernicani o tolemaici, cioè credere che la Terra sia ferma al centro dell'universo, e gli giri intorno a tutto, o viceversa, che sia il Sole e ti giri tutto intorno al sud, era un'opinione, ognuno poteva stare per quello o per quell'altro, non c'era nessun, niente che poteva, anzi, diciamo, gli aristotelici tolemaici potevano contare sul fatto che oggettivamente, guardando, i sensi ci testimoniano che noi siamo fermi, no, e quindi doveva essere casomai i copernicani a dimostrare che c'è, e questo, anche con l'audito del canocchiale, non si riesce a provare, che non può essere vero il mondo descritto da Aristotele, no, la scopetta dei satelliti di Giove, l'aspetto corporeo della Luna, eccetera, tutti questi sono elementi che fanno cadere l'impostazione aristotelico-tolemaica dell'universo, no? Basti pensare, insomma, la prima cosa che viene fuori è che perché i corpi, secondo la teoria aristotelico-tolemaica, girano intorno alla terra che sta ferma in quanto corpo pesante al centro dell'universo, girano perché sono corpi estremamente perfetti e leggeri, eh? Essendo perfettamente rotondi, hanno di per sé la possibilità di girare, eh? Perché il cerchio è, diciamo così, il movimento perfetto. E quindi, essendo rotondi, girano intorno alla terra. E sono perfetti, sono estremamente levigati. Se la Luna, invece, come dimostra il canale, e questo lo dimostra il canale, non è perfetta e levigata, ma ha le montagne, Gaileo pensa abbia anche fiumi, ma insomma, se ha l'aspetto della terra, a quel punto sorge un problema. Com'è che sta in alto, essendo pesante, perché è fatta ovvero la terra, perché sta in alto e non cade sulla terra? Che è il luogo delle cose pesanti, eh? Dovrebbe caderci addosso. C'è niente da fare. Nessun corpo, diciamo così pesante, può stare sollevato. E quindi, ecco, questo prova, almeno secondo Gaileo, che la fisica di Aristoteca, da questo punto di vista, è sbagliata, e che la cosmologia di Tolomeo non ha ragione. Lo stesso discorso, ancora di più, i satelliti, le lune di Giove, i satelliti di Giove. perché se, come diceva Tolomeo e come aveva sostenuto Aristoteca, i corpi celesti girano intorno alla terra incastonati come un brillante in un anello, in dei cerchi di cristallo perfetti e frangibili, se intorno a uno di questi girano altri pianeti, vuol dire che non ci sono queste orbite cristalline, perché sennò si dovrebbero infrangere tutte le volte che questi girano intorno a Giove. E questo dimostra che le cose non stanno così, non solo, ma dimostra anche la possibilità che ci siano corpi, che non ci sia solo un centro dell'universo, che era la terra secondo Tolomeo e Aristoteca, ma che ci sono più centri, perché c'è Giove che costituisce il centro di un piccolo sistema di corpi che girano intorno a Giove.